Penny! 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 Come potete vedere, era Penny! Questo esilarante intro di Albi! Oh yeah! Non era rale ma era Penny! Era Penny! Era un intro citoso! Citerone! Citerone è un'altra roba! Citerone è un imbroglione nei videogiochi! Abbiamo capito di cosa si occupa questa, sinceramente! Sembrava una studiosa, una scienziade! Un emozionante duello delle invenzioni! Oddio, guarda! Oh Dio, che bella! Che carino! Minchia! Cos'ha un jetpack? Che cazzo è sta! E' Krigor! Vabbè! Attento al mondo! Tanto abbiamo tra il pubblico il mister game e il bocci! Ah si? Sembra un dolore! Muori bastardo muore! Mi diventivo un casino a farlo con le formine! Bravo! Sono un assassino! Che cacchio! Con le dita! Con le mani sfucce! L'ercippone! Un dolore per due dita punta in avanti la bacchetta multiforme come davanti ad un succulento piatto di patatine fritte! Buone! Lasciati ispirare! Il gesto ti verrà naturale! Sì, questo gioco mi sta facendo venire una fame! Con le dita! Eureka! Salvo nelle porte, al contrario, non so io! Ma sono giapponesi! E' finito! Tu, 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 tu! No! Potevamo chiamarlo il cuoco! Mero! Chef! Di soffare! Ciao ragazzuoli, come va? Male, Chef! Male! I prostitu dis! Momenti epici di chef! Si! Eh! La setta! La setta! Bravo! Sei un imbustatore professionista! Oh, io sono un vitello! Anche se non hai capito cosa hai fatto! Eri confuso! Lo provo un chilo! Fai la pitta al cazzo! Wow! Come sempre! Aia! Il dolore! Colpisci! Colpisci! Oh, bravo! Me l'ho fatto! Yeah, baby! Che culo! Cos'è? Il Pugile! Si! Tu sei il Pugile! Io sono il Pugile! ...e afferrala saldamente da sopra con la mano destra. Lascia che il nobile spirito dal cazzo al tradimento... Sono il nuovo Rocky! I am the tiger! Bello! Eh, c'era una capra! E' fatto il verso della sciglia, mi dici? Perché era impegnato con la sciglia! Eh? Dai a carica al robotto! Dai! Mamma mia! Se prendi un 1000 centi secondi! Oh! Come si fa questo? Minchia! Uuuuh! Un macchino! Buono il prezzemolo! Mica tanto! Vediamo come te la carica il tuo figlio! Dai, dai, dai! Bravo! Mamma mia! Nostro Pugile! E' un mastro! Non ci fanno i sheralti! Non ci fanno i sheralti! Non ci fanno i sheralti! I sheralti non va più di moda! Ah! Come c'è dei ginocchi! Accordati! Non so cosa ho fatto! Ma l'avevi già fatto! Ma veramente? Io non capisco quello che faccio! Strano! Oddio! No! No! Non è un lavoro dignitoso questo! Lavori sporchi! Vai su di me! Accogli i rifiuti! No! No! Troppo lento! È un video troppo tardi! Vuoi tre vite per fare il boss? Dai, non roba! Il pugile! Oh santo cielo! Che amico! Ammazza! Defenditi! Coglione! Ah! Mi dico allora la posizione! Cavolo! Però non è facile! Oddio! Voglio vedere te! No! Ecco! Tac! Ora voglio vedere te! Guarda! Bastardo! Bisoglio ruttare? No! Assolutamente no! 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 Ecco! Non avete capito cosa bisogna fare in quella rombola? E devi star fermo! Non in verticale forse! Sì! Devi star fermo! Ma se pure è dura! Non si possono perdere tre vite! Ti sembra un po' le scarse! Ti sembra un po' le scarse! Su! Ora! Lo affetta! Bastardo! No! L'ho affettato! Sì dai affettato! Mamma mia! Questo deve fallire le figlie! Due di samurai! Sì! Carole! Questo era il piuttosto di tutti i minigiochi! È avuto un po' di più che faccio! Lascio! Un po' di samurai in più! Ma aspetta! Cos'è che ha fatto una mini-moto? Non so! Non stavo guardando il video sinceramente! Sì! Ha vinto creando una mini-moto! È un mio moto! È un mio moto! È un mio moto! Però non per cosa? No! Se ti metti anche a cantare vado via! No! È un balletto... Allora sono dei Game & Watch! Mr. Game & Watch! Spunterà fuori qualcos'altro? Eh sì! Che cazzo è questo? Fichissimo questo! Come si chiama? Non mi ricordo! Eh no! Buon 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 dai! Con questa figuraccia ci salutiamo! Ciao! Ciao! Ciao!